Secondo anno qui, non è edizione. Tutta questa magia e questo incanto è nato grazie all'incontro che la vita ha voluto tra due persone molto diverse come percorsi, che sono diventate amici, veramente amici. È molto divertente vederli insieme perché sono una coppia comica. Non so se oggi la faranno venire fuori. Ma perché sono diventati così amici? Perché sono uniti dagli stessi amori. L'amore per la vita, l'amore per tutti gli esseri viventi e soprattutto l'amore per Dio. Per cui chiamo qui a fianco a me il responsabile della comunità e il custode di questo luogo magnifico che è il monastero di San Magno e l'ideatore della giornata internazionale del perdono, Don Francesco Fiorillo e Daniel Lumera. Ci sediamo, stiamo in piedi, come vogliamo. Però io quando vedo loro sappiate che viene fuori subito la mia parte un po' dissidente. Cioè, ognuno di noi dentro ha varie subpersonalità, dicono così in psicologia. E io ne ho una che deve mettere sempre dei dubbi. Ora, dato il periodo storico, che rispetto all'anno scorso mi sembra anche un pochettino peggiorato, c'è anche una guerra in più, dove ti giri dolore, sofferenza, questo mondo a me sembra una valle di lacrime, e voi sfidate questo mondo dicendo che il perdono è l'unica via di uscita che libera, guarisce, addirittura realizza. Ma cosa? Ma siete sicuri che non vi state sbagliando? Certamente che ci stiamo sbagliando. Ma sbagliare credo che è l'unica possibilità che noi abbiamo per riprendere il giusto cammino. Se voi ci pensate, tutta la Bibbia inizia proprio da uno sbaglio enorme di quelli che sono chiamati i primi uomini, l'errore, la cacciata dal giardino dell'Eden da parte di Dio, così si dice, di Adamo e Eva, no? Ve la ricordate quella storia, no? L'albero, quella roba lì, quella favola, perché è una favola, è una fiaba. Ma le favole e le fiabe ci dicono tanta verità, perché Dio si serve di tutti i generi letterali per dirci questo. È uno sbaglio quello che è accaduto all'origine della nostra esistenza, ma da quello sbaglio si è concesso all'umanità che ha una nuova possibilità. A Dio non gli interessa tanto quello che noi abbiamo fatto, non gli interessa del passato, non gli interessa nemmeno degli errori che continuamente commettiamo, ma Dio è quello che ti propone il futuro e ti dice, e gli interessa sapere dove stai andando, in che direzione stai andando. È quello che gli interessa a Dio e alla vita stessa. Invece spesso noi siamo relegati al fatto che stiamo vedendo che c'è disastro, che c'è disperazione attorno a noi e ci convinciamo che sarà sempre così. Io voglio sbagliarmi e voglio continuare a sbagliarmi, perché credo assolutamente che non sarà sempre così. In Dio non esiste l'immobilismo, non è vero che tutto sarà sempre così, ma c'è uno spazio di libertà, è uno spazio di futuro che si apre davanti a noi. Ecco perché il perdono è l'unica via d'uscita. Dove il perdono sappiamo benissimo che non è la passività, non è subire, non è stare lì a pensare che tutto deve scivolarci addosso. Il perdono non è indifferenza, il perdono è la cosa più attiva, più efficace, più viva che ciascuno di noi possa fare. E voi me lo insegnate che perdonare non è una questione esclusivamente religiosa, ma è un fatto umano, perché se noi vogliamo ricominciare, rimettere a posto tutti i frammenti, pezzi che chiaramente stanno cadendo, si stanno distruggendo in quest'umanità, credo che necessariamente l'unica via è questo perdono. Il perdono legato fortemente, anzi abbracciato, al silenzio. Questo guarisce, perdono e silenzio. E mi piaceva iniziare con voi, dedicandovi questa brevissima reghiera, poesia, per poi dirmi anche che ne pensi tu, Daniel, di queste parole che ho scritto un sacco di tempo fa, ma che per me sono vitali all'inizio di questi due giorni che vivremo insieme. È quello che sento, è quello che percepisco più autenticamente possibile. Nella via del silenzio c'è la via del perdono. Non ho bisogno delle labbra per parlare. Non ho bisogno dei suoni per fare musica. Non ho bisogno del vocabolario per scrivere. Ho bisogno solo di te, amato silenzio. Silenzio, prima che conoscessi il mare, le stelle e le mie piaghe. Silenzio, prima che vedessi la luna, il biancospino ed il mio cane. Silenzio, prima che io mi innamorassi di te, del tuo spazio infinito. Non ho bisogno di udire per ascoltare. Non ho bisogno di applaudire per festeggiare. Non ho bisogno del ritmo per danzare. Ho bisogno semplicemente di inginocchiarmi dentro ogni creatura per stare alla tua presenza, mio vitale silenzio. Allora, sentite? Si sente? Avrò una voce un po' più delicata di Francesco che tuona perché vengo da tanti giorni in cui ho usato molto la parola e questi giorni saranno dedicati al silenzio anche. Provo a alzare un po' la voce. Va meglio così? Così va meglio? Va bene. Allora, sono molto felice perché in questi giorni entraremo in una esperienza di perdono. Alla domanda che ha fatto Candida non c'è risposta se non l'esperienza di ognuno di noi diretta. È inutile che qualcuno ci dica quanto potentemente è trasformatore il perdono. Dobbiamo viverlo. Dobbiamo vivere quella leggerezza. Dobbiamo vivere quell'apertura di cuore anche se apparentemente non avete nulla da perdonare perché quando sentiamo, udiamo la parola perdono una parte di noi inizia a interpretarla secondo tantissimi preconcetti. L'associa subito alla colpa, all'errore, al peccato, allo sbaglio, al dolore. Ma il perdono ha una dimensione esistenziale enorme, infinita. vuol dire perdonare, vuol dire semplicemente perdonare. E quando noi applichiamo questo principio universale anche all'amore non ritenendo l'amore, non trasformandolo in una dinamica di possesso ma doniamo l'amore, noi siamo delle coppe, delle ciotole che contengono, non trattengono, contengono la provvidenza, la bellezza per poterla a loro volta donare. Quando questo principio che regola la vita, che è il dono perché la vita viene data per dono ogni volta che noi doniamo gratuitamente la nostra vocazione quello che siamo, il nostro proposito più profondo entriamo in uno stato di integrità di realizzazione profonda e di felicità ed è nella natura del dono ogni volta che noi doniamo ciò che siamo che realizziamo noi stessi realizziamo il proposito della nostra esistenza della nostra nascita e ci ricolleghiamo con la vita. Quello che sta accadendo nella terra adesso quello che vediamo all'esterno è già accaduto dentro di noi. Non sarebbe all'esterno se non fosse prima accaduto dentro di noi. Quindi ognuno di noi ha una responsabilità enorme in quello che stiamo vedendo e può guarirla alla radice del suo sentire. Pensate che anche quando non la vedevamo questa guerra esisteva, esisteva nei nostri pensieri esisteva nei conflitti e nell'odio quotidiano che nel silenzio perché esiste un silenzio buono di ascolto, di presenza, di riconoscimento, di cura di lasciare spazio, di fiducia è un silenzio che invece è un silenzio sordo è un silenzio che non dice le parole di perdono, di amore, di compassione che andrebbero dette quel silenzio è un silenzio che porta il dolore dentro che è omertà e quello è un silenzio che andrebbe guarito quindi la situazione che vediamo all'esterno parte innanzitutto dal fatto che dentro di noi esiste una lotta costante, un contrasto costante vi prego sentitelo, sentiamolo insieme in questo momento quanti di voi vorrebbero amare? Amare il Cristo, amare la vita, amare un partner ma hanno paura allo stesso tempo che quell'amore li possa portare fuori dal controllo fuori da se stessi nel dolore, per esempio, fidarsi di un'altra persona quanti di voi vorrebbero lasciare il lavoro che hanno? ma hanno paura di farlo perché rappresenta la sicurezza ma vorrebbero essere liberi ma c'è la sicurezza quante persone di voi vorrebbero lasciare tutto e viaggiare oppure semplicemente trasformarsi ma sono troppo attaccate alle cose che hanno magari anche a relazioni tossiche vedete che il contrasto, la guerra e il conflitto nasce nell'intimità del nostro sentire poi viene trasferito nei pensieri nei comportamenti nelle scelte, nelle decisioni, nei progetti e poi crea la realtà la plasma, la realtà quello che stiamo vedendo nel mondo riflette la nostra interiorità ed è da lì che va guarito ed è in questi giorni che faremo esattamente un processo di guarigione attraverso l'unica via d'uscita attraverso il perdono che è parola ma è anche silenzio e volevo iniziare con una suggestione prima di ripassarti la parola o di passare la candida molto importante io ho fatto un dialogo qualche anno fa proprio sul perdono con Tara Gandhi che è la nipote più vicina al Mahatma Gandhi che ha diretto la fondazione di Casturba Gandhi che è la figlia scusa, la moglie l'aspetto interessante del perdono vissuto da Gandhi è stato sia nella parola ma sia nel silenzio perché uno dei figli più amati dal Mahatma Gandhi lo ha tradito nel senso che ha iniziato a fare delle manifestazioni in opposizione al pensiero del padre è stato un ribelle pazzesco tutta la vita ha causato dei disagi dei dolori molto grandi alla famiglia il padre Gandhi non ha mai detto una parola ha fidato il suo perdono al silenzio alla vita non ha mai detto ti perdono, non ti perdono stai sbagliando è stato nel silenzio quel silenzio che toglie i giudizi quel silenzio che permette l'ascolto che permette di vedere al di là della superficie di quello che sta accadendo al di là della rabbia nel profondo dolore altrui nella comprensione del dolore altrui e nella compassione che ne nasce quindi esploreremo anche questo perdono perché il perdono è silenzio è silenzio quando ci sono delle parole che non andrebbero dette è il silenzio che ascolta è il silenzio che riconosce è il silenzio capace di entrare in quel dolore in quell'insicurezza in quell'incertezza e trasformarla in un momento di ascolto di amore di presenza di cura per tutti noi ed è esattamente a queste cose che affido questa giornata vivremo tante esperienze insieme il mio augurio per tutti noi è che queste giornate il perdono ci trasformino ci ricordino cosa vuol dire essere umani essere in vita avere il dono della vita e soprattutto essere qui in spirito di fratellanza e di sorellanza ogni volta che incontro Francesco dentro di me si risveglia questo si risveglia il fatto che al di là delle apparenti differenze c'è un amore alla base di quello che si fa un dono autentico di se stessi la capacità di accogliere in sé dolore, amore e vita nella sua interezza ed è questo che crea unione è al di là delle parole al di là delle forme è questo che crea fratellanza perché si sa che si sta camminando nello stesso sentiero e la vostra presenza oggi in questo tempo in questo spazio proprio dentro questa grandissima sofferenza qui è testimonianza che una trasformazione non solo è possibile ma è doverosa vuoi replicare? no, aggiungere nulla perché faremo un cammino insieme straordinario in questi due giorni e credo che la cosa più preziosa è provare ad entrare anche in un sentire che non sempre dobbiamo idolatrare le parole c'è troppa attenzione diamo troppa importanza alle parole anche nelle nostre relazioni sembra che spesso se non ci spieghiamo se non ci giustifichiamo se non ci confrontiamo dopo aver commesso un cortocircuito con una persona sembra che non ci sia altra possibilità io personalmente nella mia vita il perdono l'ho sempre vissuto anche nel silenzio non occorreva che io dovessi spiegare le mie ragioni o che l'altro doveva per forza confrontarsi come chiarirsi a me mi manda al manicomio l'idea di quando le persone ti dicono io e te dobbiamo chiarirci cioè vado fuori di testa perché ci si può chiarire con un gesto con uno stare in silenzio in ascolto dell'altro e lasciare quello che è stato dietro le spalle e aprirsi sempre ad un futuro che ci aspetta che è lì davanti allora le esperienze che faremo gli incontri con gli ospiti questo luogo che sia anche questo anche questo è fortemente uno strumento di perdono e di riconciliazione forte proviamo a ritornare ad imparare dagli animali dagli alberi spesso spesso a me viene detto quando incontrano Aragorn il mio cane che è un labrador dice ah gli manca solo la parola e io dico meno male non ce l'ha perché un albero un cane sta lì a perdonarti ad amarti che non ha necessità di parlare noi invece capite quanto invece parliamo e spesso le parole sopravbondano come sto facendo io ora troppo e quindi mi fermo però mandava di dirvelo grazie Daniel e Francesco saranno di nuovo con noi subito dopo la pausa e adesso entriamo nel vivo con il primo ospite bene i nostri protagonisti della prossima sezione sono arrivati senza di loro non si poteva partire e nel frattempo ne approfitto per darvi alcune comunicazioni la prima riguarda un cambio di luogo di domani mattina la meditazione delle 5.30 con Daniel e Don Francesco non sarà alla Rocca ma qui nel giardino del Mandorlo quindi 5.30 domani saremo qui altra comunicazione di chiarimento ci sono state le prenotazioni per le 5 attività che ci saranno questa sera dalle 22.30 alle 23.30 e qualcuno ha detto ma perché le avete messe tutte insieme? Qualcosa non andava io come faccio a scegliere le voglio fare più di una l'intenzione era proprio quella la scelta noi siamo una società bulimica che vorrebbe mangiare di tutto è importante avere consapevolezza di cosa scegliamo e prenderci quella responsabilità e saper dire anche dei no o fare delle rinunce così come le due star qui sono andate a ruba alle 21.30 tutti vogliono venire con voi sì sono le due star scherzando vi chiamo così perché sappiate che avete fatto il sold out capito? anche lì impariamo a fluire con gli eventi questa è l'altra opportunità che noi vorremmo condividere con voi spesso succede nella vita che non possiamo fare quello che vorremmo e allora cosa sta cercando di accadere per me magari scopri che il concerto ti piace tantissimo lo filma anche chiusa parentesi delle comunicazioni lascio la parola a Daniel e Don Francesco perché adesso entriamo in un momento di pratica di esperienza legata al silenzio e all'ascolto di sé sediamoci con la colonna vertebrale prima di iniziare vorrei ricordare che mi piacerebbe molto che oggi fosse una giornata dedicata all'attenzione alla presenza alla cura di ogni gesto quando vi sedete quando vi spostate quando toccate una persona quando ci muoviamo in questo luogo facciamo in modo che sia un muoverci nella consapevolezza nella presenza e anche oggi quando mangiamo essendo dedicato al silenzio il perdono il silenzio come chiave del perdono vi ricordo che noi mangeremo in silenzio e mangiare in silenzio non è semplicemente non parlare mangiare in silenzio vuol dire anche cercare di non fare nessun tipo di rumore mentre ti muovi mentre mastichi mentre tagli il cibo mentre versi l'acqua mentre ti siedi mentre ti prende il cibo cioè diventa tutto un gesto dedicato al silenzio doniamo la presenza l'attenzione e la cura al silenzio in modo che ogni gesto diventi ricco che possiamo abitare ogni gesto così come non facciamo di solito quindi consapevolmente detto questo facciamo un profondo respiro e chiudiamo i nostri occhi e porta la tua attenzione al respiro alla sensazione dell'aria che entra ed esce dalle tue narici rendi il tuo respiro sempre più lento profondo naturale rilassato ad ogni inspirazione prendi coscienza dell'aria che entra in te della vita che entra in te seguila nei canali respiratori fino alla profondità dei tuoi polmoni fai in modo che ogni inspirazione profonda sia un momento di accoglienza ricevi la vita che ti attraversa che ti nutre che si fa sangue che porta ossigeno nutrimento luce in te ogni ogni inspirazione diventa un atto cosciente in cui tu ricevi il dono del nutrimento della vita per dono trasformiamo trasformiamo ogni inspirazione in un dono nell'accoglienza di quel dono riceviamo quella comunione con la vita in ogni inspirazione ogni inspirazione è una comunione è un ricevere in te la luce della vita la provvidenza il nutrimento la connessione profonda è la vita che ti respira e ad ogni espirazione rilascia ogni tensione ogni espirazione profonda naturale rilassata è un lasciare andare è un restituire è un donare è un arrenderti alla vita è un aprire le mani è un lasciare andare ogni controllo inspirando accogli la vita lascia che la vita ti respiri per dono espirando per dono lascia andare dono la vita arrenditi trasforma il respiro in un atto di consapevolezza di presenza più lento è il tuo respiro più intensa è la tua presenza in esso più diventi presente nel miracolo della vita più ti fai presenza accoglienza dono ed in questo momento lentamente mantenendo gli occhi chiusi appoggia le mani nel tuo cuore adesso che sai che il respiro è perdono perdono lo ricevi perdono lo rilasci non trattieni nulla se trattenessi l'aria moriresti la vita è contenere non trattenere e tu sei un contenitore di pensieri di idee di sentimenti di amore di dolore di felicità di solitudine di presenza di gioia di preghiera di perdono e ovunque lui sia comunque sia andata sia che sia o no ancora al tuo fianco pronuncia con me a voce alta la parola papà chiamalo ancora papà e guardalo mentre si avvicina adesso a te e ti sorride condividi con lui questo spazio al di là del tempo e avvolgi le tue parole con dolcezza come se fossero le ultime parole che puoi pronunciarli gli ultimi istanti in cui puoi vederlo in cui puoi salutarlo e digli sussurrando io ti perdono e digli tutto ciò per cui vuoi perdonarlo fallo adesso apri il cuore nel silenzio parlagli ti perdono per tutto il dolore io ti perdono quando c'è io ti perdono per te io ti perdono quando c'è il corteccio io ti perdono e digli adesso io ti chiedo perdono e digli tutto ciò per cui vuoi chiedergli perdono diglialo come se fossero le ultime tue parole le ultime cose che puoi dirgli io ti chiedo perdono per inizio io ti chiedo perdono perdono per averti capito non averti potuto chiedere ti chiedo perdono per la mia ignoranza ti chiedo perdono per la mia credenza per la mia freddezza ti chiedo perdono per quando ti perdisco quando stai male io ti chiedo perdono per la vita per la vita per la vita che ne sia andata chiedigli perdono per le ultime cose per le più importanti fallo adesso e digli adesso padre, grazie e ringrazialo sussurrando tutto ciò per cui vuoi dare la tua grazia a tuo padre fallo adesso, inizia abbo, grazie per la tua vita grazie per la tua presenza grazie per ogni cosa che mi hai dato grazie per il tempo che abbiamo passato insieme grazie per la tua propria vita grazie per i tuoi regali per i tuoi doni grazie per la mia trattoria per le cose che hai trovato per la sicurezza che mi hai dato grazie per la tua giocistra ringrazio per le ultime cose ringrazio per la prima volta che ti ha tenuto tra le sue braccia che ti ha visto ringrazio per ogni momento per ogni abbraccio passato insieme fallo adesso e lentamente adesso apri le tue mani porgile verso di lui e offri a tuo padre il libro della tua vita offrigli tutti gli istanti passati insieme tutte le opportunità tutte le distanze le presenze i silenzi il dolore e l'amore offrigli il libro aperto della tua vita e guardalo mentre lo prende ti riconosce ti sorride ti ringrazia per questa esperienza di paternità che gli hai dato e la porta nel suo cuore accogliendo tutto ciò che ha potuto e non ha potuto fare guardalo mentre porta nel suo cuore la luce della tua vita accogliendola ringraziandola e guarda che adesso dal suo cuore prende la luce della sua vita e la mette nelle tue mani così com'è con tutti gli errori con tutto l'amore il dolore con tutto ciò che ha potuto fare prendi questa luce ringraziala questo è il suo dono per te oggi e portala nel tuo cuore appoggia di nuovo le mani nel tuo cuore inspirando profondamente accogli tuo padre nel cuore così com'è così com'è stato accogli la luce della sua vita che ti ha permesso di sperimentare di vivere l'essere figlio con tutto il dolore tutto l'amore tutta la gioia l'incomprensione la presenza l'assenza porta quella luce nel tuo cuore e di a tuo padre io ti riconosco ripetilo io sono qui per te io ti ascolto io ti ringrazio io ti amo e digli adesso io ti lascio andare padre io ti libero inspira e soffiando dalla bocca apri le mani e lascialo andare affidalo alla vita come se fosse l'ultimo saluto e guardalo guardalo che vola via e ti sorride guardalo libero lascialo andare nel luogo più elevato nella luce guarda mentre riceve adesso ciò che avrebbe voluto darti l'amore la comprensione la saggezza la sicurezza ma neanche lui aveva queste cose guardalo mentre riceve questa luce tutti noi qui riceviamo queste stesse cose adesso e appoggiamo le nostre mani nel cuore e pronuncia a voce alta insieme a me ovunque lei sia la parola mamma chiamala mamma chiamala ancora mamma guardala guardala mentre si avvicina a te tua madre ovunque lei sia si avvicina a te in questo istante al di là dello spazio del tempo e ti sorride comunque sia andata e vivi questo piccolo spazio fuori dal tempo insieme avvolgendo le tue parole con amore come se fossero le ultime parole che puoi dirle e digli mamma ti perdono per dillo e inizia digli tutte le piccole le grandi cose per cui vuoi perdonarla dillo adesso fallo adesso apri il cuore permettiti di sentirlo fino in fondo inizia mamma ti perdono per il tuo dolore mamma ti perdono per la tua paura per la tua assenza mamma ti perdono per quando sei arrabbiata ti perdono per quando non ti sopporto dalle il perdono concedere il perdono per le ultime cose per le più importanti come se fossero gli ultimi istanti dille quello che non li hai mai detto fallo adesso apri il tuo cuore nel dolore e nell'amore e dille mamma io ti chiedo perdono per per e inizia mamma io ti chiedo perdono per le mie assenze mamma io ti chiedo perdono per ogni momento per le mie vissute ti chiedo perdono per le mie distanze ti chiedo perdono mamma chiedile perdono per le ultime cose come se fossero le ultime parole che puoi dirle chiedile perdono adesso fallo ora apri il cuore e dille a voce alta mamma grazie ringraziala per tutto ciò che vuoi fallo ora come non l'hai mai fatto ringraziala per il dono della vita per il latte che ti ha dato per ogni istante concesso per ogni volta che ti ha addormentato per tutto ciò che vuoi fallo ora apri il tuo cuore avvolgi le tue parole con dolcezza e amore mamma grazie per la tua vita grazie per tutto ciò che sei stato mamma grazie per la tua donna costante per il tuo amore grazie per tutto ciò che sei stato grazie per la tua vita grazie per la tua vita grazie mamma grazie mamma per la tua vita grazie mamma grazie mamma per tutto ciò che sei stato ringraziala per le ultime cose queste sono le ultime parole che puoi dirle riempi questa gratitudine sinceramente fallora, guardala negli occhi e dille mamma grazie per mamma grazie per la tua vita per il dono immenso della tua vita e lentamente apri le tue mani portale verso tua madre e offrile la luce del tuo cuore la luce della tua vita che ti è stata donata anche da lei offrine tutta la tua infanzia la fanciullezza i momenti passati insieme il dolore e l'amore che gli ha permesso di sperimentare il suo essere madre e guarda che riconosce questa luce la prende con umiltà e la porta nel suo cuore e ti dice io ti riconosco grazie guarda il volto di tua madre che ti sorride che può sperimentare l'essere madre attraverso di te e guardala mentre si nutre di questa luce e prende dal suo cuore la luce della sua vita e la mette nelle tue mani la depone nelle tue mani questo è il dono che ha per te in questo istante tua madre e guarda guarda nelle tue mani questa luce e dille grazie per il dono della tua vita e lentamente porta di nuovo le mani nel cuore portando il dono della luce della vita di tua madre dentro di te e dille io ti riconosco io sono qui per te io ti ascolto io ti ringrazio io ti ringrazio io ti lascio andare mamma io ti libero inspira e soffiando dalla bocca apri le mani lascia andare tua madre affidala alla vita come se fosse l'ultimo istante guardala mentre vola via ti saluta ti sorride lasciala andare lasciala volare nel luogo più elevato pieno di luce guarda che in questo istante riceve ciò che avrebbe voluto darti quella forza quella salute quell'amore che neanche lei quella saggezza neanche lei conosceva e riceviamo tutti noi anche tutti noi queste cose in questo istante e metti nella tua mano destra tuo padre aprendola e nella tua mano sinistra tua madre davanti a te e comunque sia andata la loro storia ovunque loro siano in questo istante lentamente unisci i palmi delle tue mani di fronte a te all'altezza del cuore unendo padre e madre ancora una volta in te tu sei il figlio sei l'unione di padre e madre e dentro di te nel tuo cuore il padre e la madre si uniscono costantemente si fondono nel figlio che rappresenta la loro morte e il loro amore e appoggia le mani un'ultima volta nel tuo cuore ed ispirando e la vita è la vita e la vita a casa e la vita a casa nel tuo cuore ed ogni volta che cerchi la vita respira ascolta dimora nel tuo cuore e ripeti con me luce della stessa luce voce della stessa voce uno nell'uno uno nella pace uno nella luce inspira inspira profondamente lascia che nel tuo cuore risplenda e si accenda un sole radiante che espande luce calore e vita un sole che è l'unione di padre e di madre che vivono in pace ora nel tuo cuore uniti nella tua presenza nella tua carne nel tuo calore nel tuo sangue nel tuo respiro nella nostra presenza in questo incontro dove tutto è perdonato rivolgiti a tuo padre e a tua madre che sono adesso di fronte a te mano nella mano e ripeti queste parole perdono e libero per sempre tutto ciò che è stato nello spazio e nel tempo siamo liberi e felici grazie inspira soffiando apri le mani e liberali lasciali andare lasciali volare via come farfalle nella vita senti il tuo cuore che si apre senti ogni persona qui presente essere padre e madre padre e madre e ti prego lentamente aprendo gli occhi guarda una persona o più persone vicino a te e prendile per mano e digli padre e digli madre riconosci in quegli occhi la presenza divina riconosci in quegli occhi il dolore l'amore di questa vita perché siamo uno nella nascita saremo una sola cosa nella morte e siamo una sola cosa nel respiro di questo istante e di alla persona che è davanti semplicemente grazie e se vuoi scambia un abbraccio grazie 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 Rimanendo in questo braccio di tenerezza Rimanendo in questo amore senza merito Proviamo a sentire ora una luce che scende dall'alto Vi rinvito a socchiudere gli occhi Rimanendo in questa emozione In questo sentire Scendi su di me, Spirito Che è luce Senti una cascata di luce Di benedizione che in questo momento, in questo istante Scende su di te È la stessa luce del tuo primo giorno di vita Sentiti Benedetto Benedetta Qualsiasi sia la tua storia Qualsiasi sia la tua vita Lascia Che questa luce dall'alto Ti avvolga Ti protegga Ti restituisca La vita Sei tu Quella benedizione Sei tu Quel figlio Quella figlia Sei tu Padre E madre E' Dio Che scende Ora Sulla tua vita Non ti giudica Non ti rimprovera Ti ama E ti accoglie Esattamente Per quello che sei Ti invito ora Ad appoggiare Le tue mani sulle tue gambe Con i palmi Rivolte verso l'alto Ad accogliere Tutta la benedizione Che Dio In questo momento Vuole regalarti E' la vita Che scende Su di te E ti ricorda Che tu sei Viva Sei vivo Senti Senti Questa luce Sui palmi Delle tue mani Con delicatezza Scende Su di te Dio 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 E' padre E' madre Dio E' figlio Dio E' spirito Dio E' un bacio Senti Senti Ora Sulla tua fronte Proprio il centro Il bacio Di Dio Che ti ha già perdonato Che continua ad amarti Senti il bacio di Dio Sulla tua fronte delicato Che non ti possiede Non ti trattiene Ma ti rende Libero Padre Perdonali Perché non sanno Quello che fanno Padre Perdonami Perché spesso Non so Quello che faccio Lascia Che tutti i tuoi sensi Di colpa Abbandonino Il tuo cuore Non rimproverarti Nulla Lasciati Amare Lasciati Perdonare Perdonare Lasciati Trasformare Trasformare Affida Tutta la tua vita A Dio A Dio Lascia ogni controllo Ogni preoccupazione Non bisogna A risolvere A risolvere tutti i problemi A risolvere tutti i problemi E affidati E affidati A Dio che è padre E madre E madre Allontana Allontana L'orgoglio La superbia Allontana L'aver ragione Affidati Senti l'abbraccio Di un Dio Che è tenerezza Che si fida di te Senti Senti Dentro di te Sussurrare la voce di Dio Che ti dice Ora Io Mi fido di te Senti Dio Che dice A te Proprio a te Io Ho bisogno di te Senti Dio Che dice Proprio a te A quello che sei Io Voglio il tuo amore Donati Completamente A Dio Qualsiasi sia Il tuo sentire Di Dio Sentilo Va bene Qualsiasi Qualsiasi percezione Sentimento Di Dio Che senti Va bene Allontana solo L'idea Di Dio Dio non è un'idea E il vivente Accogli tutto il suo amore Tutto il suo perdono Ti chiedo ora Di ritornare lentamente Ad unire Le tue mani davanti a te Arriva a mani giunte All'altezza del tuo cuore Senti di essere Preghiera Preghiera vivente Non c'è bisogno di parole Non c'è bisogno di pensieri Per incontrare Dio Bisogna semplicemente Essere E esserci Senti che tu sei preghiera In questo momento Non sei Sola Non sei solo Siamo tutti Preghiera Preghiera vivente Perché Dio Abita in te Prova a sentire E a percepire Di non essere sola Di non essere solo In questa chiesa Fuori Nella sala accanto Sentiti Un noi Prova a sentire La presenza Accanto a te Di altra preghiera Vivente E ti chiedo E vi chiedo Ora di ripetere Dopo di me Sussurrando Vieni Vieni Santo Spirito Manda a noi dal cielo Un raggio Della tua luce Vieni Padre dei poveri Vieni 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 Datore dei doni Vieni Vieni Luce dei cuori Consolatore perfetto Ospite dolce Ospite dolce Dell'anima Dolcissimo sollievo Nella fatica Riposo Nella calura Riparo Nel pianto Conforto O luce Beatissima Invadi Invadi Il mio Intimo Invadi Il mio Cuore Senza La tua Forza Nulla È Nell'uomo Nulla Senza Colpa Lava Ciò che è arido Bagna Ciò che è rigido Sana Ciò che è sanguina Piega Ciò che è rigido Scalda Ciò che è gelido Drizza Ciò che è sviato Dona a tutti noi Che solo in te Confidiamo I doni Della tua luce Dona vita Dona il premio Dona Morte santa Dona Eterna Gioia E vorrei che Semplicemente Ora si alzasse Tutta questa invocazione Come un'unica Preghiera Per chiedere Il dono Della pace Vorrei che In questo momento Lentamente Apriamo di nuovo Le nostre mani giunte E eleviamo le nostre braccia Verso l'alto Immaginando di affidare La nostra preghiera La nostra preghiera di pace Al Dio Che può portare la pace Vera In questo mondo Senti di non essere Sola ad invocare Questa pace Senti che si elevi Da questo monastero Ora La pace La pace In ogni angolo Della terra In ogni famiglia In ogni cuore Che possa arrivare Questa preghiera Di pace Dove in questo momento C'è solo sofferenza E morte Dove c'è guerra E disperazione Crediamo profondamente Di essere artigiani Di pace Operatori di pace E senti Che questa preghiera Arriva Lì Dove c'è bisogno Riporta Le tue mani In basso Scegli ora Il nome Che vuoi dare a Dio In questo momento Scegli il nome Che vuoi dargli E quando io Ve lo chiedo Apriremo tutti insieme Gli occhi E pronunceremo Il nome Che abbiamo dato a Dio E che diamo a Dio In questo momento Quello che hai scelto Nel tuo cuore Apriremo Tra poco Gli occhi Volgi il tuo sguardo Davanti A quell'icona Che è davanti a te E ad alta voce Pronuncia il nome Che hai dato a Dio Apriamo gli occhi E di ad alta voce Il nome di Dio Grazie Grazie Per questo momento Ora C'è il momento Del pranzo E come diceva Daniel Ve lo chiediamo Realmente con profondità Anche quando riceveremo Per chi ha prenotato Il pranzo Per chi ha portato Il suo pasto Potete consumarlo Ovunque In questo luogo Nei prati Anche quando riceveremo Il pranzo Proviamo Fin da questo momento Ad abitare il silenzio Anche quando Consumeremo Il pasto Insieme Fate che questo silenzio Sia una presenza Forte Che abita In ogni gesto Proviamo Realmente A gustarci La lentezza Dei gesti Dei movimenti Delle parole Sussurrate Del cibo Che è un dono A cui siamo Troppo abituati Eppure È un gran privilegio È un gran privilegio Essere qui È un gran privilegio Abitare La vita Quindi Vi chiediamo Veramente Con tutto l'amore Di vivercelo Così Io lascio A voi La parola Perché Abbiamo vissuto Tantissimo In queste In queste ore E La mia ultima Domanda È questa È stato Molto ricco E rischiamo Anche di Perderci Dov'è che Dobbiamo portare Il focus Comincio io Tra il dire E il fare Tra il dire E il fare C'è il cominciare È una delle frasi Cardine Della nostra esperienza Di fraternità Io credo Che il focus Stia tutto lì Tra il dire E il fare Comincia Non importa Decidersi bene All'inizio Decidi Comincia A fare Una scelta A prendere Una decisione Per la tua vita Innanzitutto Io credo Che questi due giorni Siano arrivati Diritti Al cuore Diritti Dove dovevano Arrivare In ciascuno di noi E da lì Comincia Poi Comincia A prenderti Un impegno Un impegno Che deve essere Facile Semplice Ma concreto Perché se abbiamo Ascoltato In questi giorni Se abbiamo vissuto Abbiamo praticato Il perdono Ora è necessario Ma realmente Ve lo dico Con tutto l'amore Che ho Prenderci un impegno E contagiare Almeno Per ciascuno Che siamo qui Un'altra persona Ma quella Più difficile Però Più complicata Più distante Da noi Più lontana Perché altrimenti Rischiamo Di implodere Di aver ricevuto Tanta luce Tanta speranza Tante carezze Tante lacrime Non possiamo Tenercene Per noi Noi dobbiamo Imparare A restituire A passare La bellezza Che abbiamo ricevuto Agli altri A passare La luce Che abbiamo ricevuto A un'altra persona A passare Che significa Donare Perché il perdono È questo donare Continuo Senza riserve Senza paure Non stiamo lì A preoccuparci Non sono in grado Non ho gli strumenti Non ce la farò Da dove comincio Inventati Di tutto Io vi prego Siamo realmente In tutta In tutto lo stivale Siamo praticamente Di tutta Italia Dalle varie parti Allora ciascuno di voi Ciascuno di noi Si impegni Realmente a inventarsi Di tutto Per portare Nel proprio paese Nella propria città Nella propria famiglia Andate a disturbare Quelli che hanno scelto La tiepidezza O che hanno scelto La strategia Dell'odio E della paura A cui spesso Molti di noi Ancora boccano Pensando che I figli delle tenebre Siano più forti Dei figli della luce Non perché Noi siamo figli Per la luce Per predilezione Ma perché In qualche modo Ci siamo entrati E ci stiamo provando Ognuno Con i propri limiti Le proprie debolezze Le proprie fatiche Perché non credete Che questo luogo qui Non sia Pieno E non grondi Di lacrime Di sudore Di sangue Di limiti Di difficoltà Ma la bellezza Arriva Molti di voi Che per la prima volta Sono approdati qui Perché c'è dietro Tutta questa fatica San Paolo dice Quando sono debole E allora che sono forte Quindi Non aver paura Delle tue debolezze Anzi Continua dicendo Vantati Delle tue debolezze Delle incapacità Ma inventiamoci Di tutto È urgente Io credo che Se vogliamo Ribaltare La situazione E la Direzione Che l'umanità In qualche modo Sembra Che sta prendendo Che è quello Del disastro E della Disperazione Noi Dobbiamo costruire Una concretezza Nel perdono E la concretezza Si vive In quei luoghi Che sentiamo Anche distanti Da noi Lontani Da noi Io Credo che tutti Abbiate respirato Quanto ci si sente Uno Nell'uno Dove La separazione La diversità Non diventa Più un ostacolo Anche tutti i cammini Che ciascuno di noi Sono diversi Personalissimi Diventano realmente L'unica strada E l'unica strada Possibile È il perdono Questo perdono Che realmente Non è un'idea Non è un sentimento Ma è un impegno È un impegno Che noi abbiamo ricevuto Personalmente E quindi Abbiamo ancora di più La responsabilità Cioè vorrei che ciascuno di noi Si senta responsabile Di questo dono Che non può essere trattenuto Non possiamo farlo implodere Non possiamo Continuare a trattenerlo Solo per noi Vi prego Siete stati bene Ok Non puoi stare bene solo tu Fin quando Non stanno bene Anche gli altri Siamo tutti Sulla stessa barca Non possiamo pensare Che il perdono L'esperienza Di ciascuno di noi In qualsiasi cammino spirituale Che sta facendo Qui nella fraternità Come cristiano Come musulmano Come induista Come buddista Come ateo Come agnostico Come vi pare a voi Possa concludersi Guardandosi il proprio ombelico E ripiegandosi Io credo che La cosa più dirompente Di cui oggi c'è bisogno È dire che c'è Una nuova umanità È la nuova umanità È rimanere Fedele a se stessi Avere radici profonde Sulla propria scelta Ma allargare Il più possibile I rami Perché noi dovremmo avere La capacità Di vivere E di sentire Sguardi vicini Ma vedute Lontane Più lontane Possibili Da noi Dai nostri ambienti Dai nostri gruppi Dai nostri cammini Cioè noi dobbiamo essere Dei propulsori Questo è il tempo Credo dopo due giorni Di esplodere Cioè di contagiare Il perdono passa per contagio Non per spiegazione Non per dottrina Ma per contagio Allora io credo che Forse il primo focus Di cui mi viene in mente È proprio questo Ci riguarda Tutti Cioè nessuno Escluso Vi prego Ve lo ridico in un'altra maniera Più semplice Inventatevi di tutto E non potete sentirvi Non coinvolti E non responsabili Non è più il tempo Di delegare ad altri Mi impegno io Non mi importa Se non si impegnano Gli altri Mi impegno io Non sto ad aspettare Che lo facciano altri Mi impegno io Personalmente Insieme a qualcun altro E allora credo che questo Almeno sento che sia Almeno per me È arrivato forte Ancora di più Come conferma Ma come impegno E anche io ho pensato Che devo inventare altro Cioè non mi basta più Il monastero Non mi basta più Questa esperienza Che noi viviamo Dobbiamo inventarci Usare creatività Dentro il perdono E quindi Non abbiate timore Della tempesta Che state attraversando Della vostra E della nostra Debolezza Perché da lì Quello è il luogo Usa della tempesta Per liberarti Fiorisci in pieno inverno Non temere Perché la vita Dio Sta dalla nostra parte Se noi in qualche modo Ci mettiamo Accanto a lui Senza sostituirci A lui Quel lutto Che stai vivendo Quel dolore Quella malattia Quella sospensione È da lì Che bisogna ripartire È da lì Io non so capace Di nulla Io non mi sento Capace di nulla So che nessuno Di voi ci crederà Ma io sono timido Da morire Nessuno ci crede E lo so Io qui Prima di parlare Prima di iniziare Un'omelia Prima di Io vorrei sparire Cioè io vorrei Scomparire Poi mi dico Che si fa? Vado Cioè poi Quel che succede Succede Allora bisogna anche Rischiare un po' Nel perdono Amare è un rischio Non è mai una certezza Io ho rischiato Con questo qui Ma di brutto O no? È così Non è che sono stato lì A dirmi Aspetta Conosciamolo prima Capiamo Vediamo chi è Chi non è Quello che fa Aspetta Leggiamo prima tutti i libri Che poi Tutti grossi così Cioè nel senso che Anche meno Le prossime volte Pure l'ultimo Speravo nell'ultimo Che fosse un po' più piccoli Voi avete visto La differenza Tra i miei Che sono cento paginette E le trecento Però vabbè E le mie hai visto Piccolino Quello in una nottata Si fa No però per dire È un rischio È un rischio Se io mi fossi messo lì A fare i conti Col pallottoliere E a dare etta A tutte Quelle paure Anche mentali Che la mente ti mette Lo sappiamo No Noi non avremmo scoperto Questa amicizia Lui non mi avrebbe permesso Di conoscere Questi altri amici Decine Decine di amici Che più li conosco E più sento Che è come se Vi conoscessi da una vita Anche voi Anche noi Ci siamo incrociati Abbiamo fatto delle cose insieme Però tutto questo Non può essere sprecato Cioè non può finire Qui Noi non concludiamo nulla Eliana ci ha detto Voi fate la chiusura No io faccio l'apertura Non la chiusura L'apertura Oh no Questo è perché Non ho dormito Questo qui è perché Non ho dormito Sono 48 ore Quindi Vi prendete tutto Il sonno Non Vedi quando uno non dorme Meglio o no Non provo a fare Piglia pesce Ah non piglia pesce Ah piglia pesce Giusto piglia pesce Quindi Semplicemente questo L'apertura È questa Quindi Ritornando ognuno Ai propri ambienti Alle proprie vite Al proprio lavoro Alla propria quotidianità Che so che è lì Che diventa Più faticoso Ma Don Milani diceva che Finché c'è fatica C'è speranza Cioè se la fatica È un valore Che non ha nulla a che fare Con il sacrificio Tutti i volontari Che ci sono stati qui Non l'hanno fatto Con sacrificio Con fatica Ma con donazione Con i propri limiti Con le proprie debolezze Cioè tutto questo Che abbiamo provato A vivere Con tanta fatica Ma che è un valore Ma che è un valore Ma nessuno con sacrificio E tutti con i nostri limiti Debolezze Imperfezioni Io amo l'imperfezione Io quando mi dicono Vengono da me Mi dicono Eh Don Francesco Però io Ti pensavo diverso Mi hai deluso Io sono contentissimo Cioè io esulto Perché ti tolgono Dal piedistallo Io non sono perfetto E anzi Chi mi conosce Mi sta conoscendo Io sono pieno di dissonanze Di imperfezioni Di debolezze Ma sono la mia forza Cioè il meglio che ho E allora perché Non cominciare Da lì Allora è straordinario Quello che è accaduto In questi due giorni E concludo E mi sto zitto Cioè veramente Però Ci ho pensato Non ne parlerà Quasi nessuno Di quello che è accaduto In questi due giorni qui Ma va bene Non lo vedrete Alla televisione Non vedrete i giornali Che le scriveranno Va bene Perché io non ci voglio stare In quel sistema lì Perché oggi Quel sistema lì È corrotto Quel sistema lì Porta avanti Una disinformazione Ed è una strategia Non parlare Che centinaia e centinaia Di persone Hanno scelto altro Però noi siamo Molto più potenti Delle televisioni Di internet Cioè noi siamo Più potenti Cioè le persone Sono più potenti Cioè allora Facciamolo a noi Questa informazione Informiamo Condividiamo Non dai saltati Mi raccomando Ma neanche Ma neanche però Da quelli che Stanno lì Tiepidini Concludo con questa immagine Dell'Apocalisse Dio I tiepidi Li vomita Dalla bocca Quindi Se sei caldo Fa caldo E fai il caldo Se sei freddo Continua a fare il freddo O freddo o caldo Ma tiepido No Quindi Credo che forse A meno quello che è arrivato a me E che mi impegno io a fare Tutto questo qui Poi se vi va Fatelo pure voi Se non vi va Peggio per voi Allora È stato bellissimo Poter celebrare La seconda edizione Della giornata internazionale Del perdono qua Ed è stato bellissimo Ritrovare Francesco L'avevo ritrovato Quest'estate Anche passata Grazie a Sor Sandra Abbiamo passato Dei momenti Di verità Molto belli Molto semplici Molto umili Anche insieme È incredibile Se io guardo Come è iniziato Tutto questo Come il perdono Da un processo intimo Interiore Di guarigione Di sblocco Di liberazione Diventa poi Come diceva lui Un contagio pazzesco Venire qui Non per Vomitare I propri problemi Sugli altri Ma per condividere Per aprirsi Per donare Dolore E amore Guardate che cosa Ogni storia Ci ha cambiato Profondamente C'è una rete Di cuori incredibili È un noi Tutto questo Che sta accadendo Non sono io Non è lui Non è lui È un noi Ci sono delle persone Che risvegliate Ricollegate Interconnesse Creano una rete Incredibile Di risveglio Di risveglio Dell'esperienza umana Dei valori reali Della vita Del proposito Del significato Di noi stessi Nel dolore Nell'amore Abbiamo una ricchezza Questa è la ricchezza Questa è la ricchezza Di cui ha bisogno L'esperienza umana Non è un tipo Di successo effimero È questo tipo Di profondità Che ci dà La dimensione Del perché Sarà impossibile A qualsiasi tipo Di intelligenza artificiale Arrivare A questa bellezza Questa autenticità Questa verità Ed è questa L'intelligenza spirituale L'intelligenza Che abbiamo Nella luce del cuore Quando guardo Una persona Io vedendo La ricchezza Pazzesca Delle persone Che sono venute qua Ogni testimonianza È stata trasformatrice Ognuno di noi Donando la propria esperienza Rendendo Facendo dono Facendo dono Cosa vuol dire Fare dono Del tuo dolore Cosa vuol dire Fare dono Del tuo amore Vuol dire Che non ti attacchi Al dolore Non lo personalizzi Ma lo offri Offri la tua fragilità La mostri Ti denudi E lì Crei empatia Crei compassione Risvegli Nell'animo umano L'amore più profondo E fai lo stesso Con l'amore Non lo ritieni Non lo trasformi In possesso Ossessione Ma lo dai Quella luce La trasmetti Accendendo tante candele E per quanta oscurità Si possa aggiungere Non sarà mai possibile Quell'oscurità Di spegnere Neanche una di quelle luci Non gli è dato All'oscurità Spegnere la luce Della candela Non gli è proprio dato E il nostro compito Non essere luci Neanche essere candele E passare questa luce Di fiaccola in fiaccola Questo raccomandava Francesco Quello di darla Questa luce Di non tenerla Perché ritenerlo Quell'amore Crea dolore Il dolore È amore trattenuto Il dolore È amore trattenuto Non è nient'altro È quella paura enorme Che abbiamo Di dare Quello che siamo Non quello che abbiamo Quello che facciamo Quello che siamo Ed è questo Che risveglia Le anime delle persone E quando lo guardo Quando ci guardiamo Che non abbiamo dormito Di notte Per ascoltare il concerto Poi c'era la meditazione Di cinque e mezza Che uno si sveglia E dice Ma chi me lo fa fare E invece poi va lì E lo ricordi Chi te lo fa fare Ricordi perché sei qui Ricordi cosa stiamo facendo Io non sono d'accordo con lui Perché per me Non è fatica È proprio sacrificio Sacrificio vuol dire Rendere sacro Sacrificare Togliamo la fatica Rendiamo sacra ogni cosa Sacrifichiamoci Rendiamo sacro il respiro Rendiamo sacra la stanchezza Rendiamo sacra la sonnolenza L'inerzia Rendiamo sacra tutte queste cose Offriamole Facciamone dono Facciamo che ognuna di queste cose Ci ricordi la potenza Del perdonare In questi giorni Guardando ognuno di voi Sono avvicinate persone Che avevano un dolore abissale Un amore infinito Una gratitudine autentica Ho guardato ognuno di voi Con una C'era una bellezza in tutto questo Una profondità Un miracolo impagabile Una ricchezza L'ho detto impagabile Mi sono ricordato Un piccolo episodio Perché uno dei temi Di questi giorni È stata la mamma La madre Il perdono è madre Il perdono è quella femminilità Quella cedevolezza Quella resa Che l'essere umano Adesso deve imparare Deve imparare A smettere Di essere un maschile distorto E può imparare Questo solo attraverso Un femminile Il perdono è La femminilità risvegliata Nell'essere umano Proprio il farsi dono E la madre si fa dono Inizia dall'essere madre Perché la madre Sa come farsi dono Fare dono nel proprio tempo Delle proprie fatiche In maniera incondizionata Noi dobbiamo imparare A essere madri Attraverso il perdono A guardare anche gli uomini Accanto a noi E dirgli mamma Come abbiamo fatto il primo giorno Io mi ricordo Vi faccio dono Di questa piccola testimonianza Che tra l'altro Ho anche scritto nel libro E vi lascio Con questa testimonianza Che è anche una provocazione Per te Cattolico Cristiano Prete Che intanto Me ne dimentico Di questa cosa Che tu sei tutto questo Poi ti faccio La provocazione a te E va bene E noi sappiamo E funzioniamo così E certo Nel primo periodo monastico Della mia vita Io facevo Dalle 6 alle 8 ore Di pratica al giorno E' stato importante Lasciare il mondo Ad entrare dentro Perché poi sono tornato Nel mondo Come dice il maestro Senza essere del mondo E' stato bellissimo Ma quando sono tornato L'ho condivisa spesso Ultimamente questa storia Però ve ne faccio dono In quel periodo Era bellissimo Perché io meditavo Tante ore Però vivevo ancora Con i miei E c'era A un certo punto Perdevo il tempo Perdevo lo spazio Entravo in stati Di beatitudine Statici Meravigliosi Un senso di me stesso Al di là di me stesso Era un'esperienza Incredibile Meditativa Però c'era sempre A un certo punto Una voce In lontranza Che diceva E' pronto Ed era la mamma La mamma In quel momento A me dava anche fastidio Quella roba lì A volte Perché mi toglie E non capivo Il dono Di quella cosa Una persona Che ha cucinato Per te Allora mi alzavo Perché lei insisteva E' pronto E poi alzava il tono Se io non Allora io scendo Le mamme arrivano A decibel Altro che Si di si Qua siamo proprio Allora scendevo Con grande fatica Perché non avevo La percezione del corpo Scendevo le scale Per scendere giù E lei rispettava Il mio silenzio La mamma era Mia madre mi ha sempre Capito in profondità Non capiva Ma capiva Rispettava Amava Mi sedevo lì E un giorno Mi ricordo Cucinava sempre Le cose buonissime Io stavo mangiando Mangiavo La guardavo In silenzio Dicevo Mio Dio Mia madre Questa donna morirà E' qui davanti a me E' mia madre C'è Una bellezza Una profondità Dicevo Ma dove finisce Il suo essere madre Ha cucinato Questo cibo Il suo essere madre La sua presenza Il suo respiro E' madre Tutto è madre Allora la guardo E le dico Mamma Ma tu Dove finisci? E lei mi guarda E mi dice Mangia va Lì c'è tutto Lì c'è tutto L'insegnamento Lì c'è tutta La pragmaticità Della spiritualità L'amore E' veramente Un fare E lì ho capito Che c'era il Buddha C'era il Cristo Ma soprattutto C'era la mamma No invece Mi hai fatto venire In mente Mentre parlavi Mentre lui faceva Le sei ore Di pratica Di meditazione Io facevo sei ore Di rave Di dj Quindi diciamo Proprio Lui tutto santino Casa e chiesa Ma te t'ha portato In chiesa Ma hai portato Da te Figura Il casino No c'è un miscuglio Ma mi hai ricordato Invece Perché quanto è vero Io quando penso Alla madre E a mia madre E continuo a commuovermi Profondamente Vedo che Anche voi Quando sentiamo Tutti L'idea di madre Per quanto Anche loro Umani Quindi non perfetti Cioè Però Se posso Ti Ti restituisco Ti condivido Provo anche a farlo con voi Parlo sempre poco Di mia madre Parlo sempre più Di mio padre Che quello che ha causato Tutto questo Quindi Ma in realtà Quella che ha causato Tutto questo È mia madre E c'è Un episodio Di madre Per dire Quanto è vero Quello che Daniel Diceva Io ricordo Io ricordo che Avevo Otto anni Scendiamo giù Casa A giocare Nel cortile Sempre Dalla mattina Alla sera Sempre lì Ricordo benissimo Questo episodio Lì io capì La presenza È l'amore E l'amore fortissimo Che io sento Ancora oggi Verso Mia madre Noi stavamo giocando Io stavo dietro La bicicletta Di un mio compagno Quando C'erano le grazielle Si si metteva Io dietro Con le gambe Così Poi che Mentre sono lì Io non riuscivo a stare Un attimo fermo Manco A otto anni Mi va a finire Il piede In mezzo ai raggi Non so se avete fatto Mai questa esperienza Del piede In mezzo ai raggi Ed è Naturalmente Si blocca Ma è un dolore Atroce Perché i raggi Ti ha Io grido Io ero Alla fine Praticamente Della traversa All'inizio Noi abitavamo Alla fine Mia mamma Stava su Io grido E la prima parola Che mi esce È Mamma Cioè Neanche Mamma Io non so Come sia Accaduto Lei l'ha sentito Io ho questa scena Di mia madre Che Mentre ho questa gamba In mezzo ai raggi Mi giro di spalle La vedo correre Correre Instancabilmente Con le ciabatte Come stava per casa Diritta E doveva arrivare Da me Lei arriva Prende i raggi Li apre I raggi Della bicicletta Io ho queste Ma Con una forza Una potenza Che ha solo Una madre Che riesce Ad aprire Ma la cosa Più straordinaria E che forse È l'unica volta Che non è accaduto Questo Lei non mi Rimprovera E mi abbraccia E mi bacia Io lì Ho sentito La potenza Di una madre Per un figlio Capace di Aprire Quei raggi E di non Rimproverarti Altre volte Lo faceva sempre Cioè è chiaro Che Stava sempre A rimproverare Ma perché vi racconto Questo Perché io lì Ho capito La bellezza La grandezza Di mia madre E probabilmente Questo mio Spirito Di fatica E non di sacrificio Che lei ha Nei miei confronti Questa mi è uscita così Perché vi dico Apre e chiude I sacrifici Non servono a nulla Ve lo dico io Quando vogliamo fare un sacrificio I sacrifici sono come il gloria Primo giorno Gloria al padre Secondo giorno Gloria al figlio Terzo giorno Gloria allo spirito santo Quarto giorno Come era in principio Cioè Ne è cambiato niente Niente Fidati 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 Vabbè Questa era una scemenza Era una scemenza Adesso rispondo io No aspetta Aspetta un secondo Però No No Oh è che perdonatevi Noi anzi Dovremmo litigare un po' Noi ci vendichiamo Noi ci dobbiamo vendicare Lui deve soffrire Tu devi meditare E tu soffrire Medita Tu devi venire al concerto I giovanotti con me E tu degli assi di sì con me Ok Ma ti voglio vedere A te un concerto Degli assi di sì Infatti non mi vedo neanch'io Ah neanche tu Ma ci andrai Ci andrò Bravo Ci andrai ragazzi A meditare A meditare Dopo che ha conosciuto noi Noi andrà anche al concerto Gli S.I.D.C. Quindi So per me già è convertito Quindi Io ho fatto il mio lavoro No E chiudo Sull'idea veramente Che Ciascuno di voi potrebbe raccontare Ora un episodio Io ne potrei raccontare Tanti più complicati Più difficili No Con una madre Ma Ce n'è uno Che credo che ciascuno di voi Ha Con un gesto di gratuità Nei confronti della madre Anche quelle più Anaffettive Più Ci sono state Forse siamo noi Che dovremmo Riuscire a sentire Questa forza E questa potenza Io voglio dirvi solo questo Non importa se tua madre Sia viva O morta Io vorrei che oggi Voi Regalaste Un vostro pensiero Un vostro sentimento Sei viva Andate da lei E ditegli Mamma ti voglio bene Così come sei Sei morta Entrate Dentro di voi Andate in un luogo Caro Forse a vostra madre E diteglielo Mamma Io ti voglio bene Così come sei E ti chiedo solo Di volermi bene Così come sono Anche se t'ho fatto angustiare Se t'ho fatto Arrabbiare Se mi sono allontanato da te Se forse non ci parliamo più Se anche avrei voluto dirti Mille altre cose Non sono riuscito a dirtelo Il bene è qualcosa di Più grande Anche di noi Allora Io credo fortemente A quello che Daniel Ha detto Perché Credo che Il perdono È madre Ed è quella parte femminile Che penso che entrambi Stiamo anche sempre di più Scoprendo Esercitando E lo dico veramente a tutti Che dovremmo far sì Che ci sia sempre più armonia Dentro di noi Tra il femminile E il maschile Quindi Dio è madre E padre Insieme Altrimenti Non è Dio Vorrei concludere O meglio iniziare Questo incontro In questo modo Mi sono chiesto E poi ho anche scritto Da poco Su come possiamo essere madri Ognuno di noi Uomini e donne La madre È la persona Che dà la vita È possibile Estinguere Questo debito Che non è un debito Verso la propria madre Che ha donato la vita È stato tramite Affinché la vita Diventando madre A tua volta E diventiamo madre Ogni volta che diamo Alla vita Dei figli Che sono I progetti Non solo figli biologici I progetti Idee Pensieri Costantemente siamo madri Quando ci prendiamo cura Di queste cose E quando diamo alla luce Dei contesti Dei valori Quando partoriamo In questo mondo E questa La giornata Il perdono È un figlio È un parto Di tutti noi Di questa grande madre Che siamo tutti noi Possiamo prenderci cura Di questo figlio Come diceva prima Francesco A portarlo nel mondo A farlo crescere E poi farlo andare Io ho la sensazione Che tutto quello Che sia nato E che negli anni Abbiamo curato Adesso inizia a camminare Inizia a camminare da solo E il corpo Siamo tutti noi E possiamo diventare madre Essendo Facendo l'esperienza reale Dell'amore Una madre Come diceva Francesco prima Sua madre l'ha sentito Ma l'ha sentito Perché lo amava C'è un contatto empatico Per cui tu sai Come è stato tuo figlio Lo sai Perché lo sei È una parte di te Lo sai perché lo sei E la stessa cosa può accadere Quando noi vogliamo Conoscere questo universo Se vogliamo conoscere la vita Non dobbiamo comprendere Il perché della vita Dobbiamo diventare Purezza in quella vita Dobbiamo diventare vita Dobbiamo fare esperienza Di essere vita Di essere impersonali Senza limiti Senza forma Senza nomi E in quell'essere vita Includere gli altri L'amore ti permette Di sentire il dolore Di un detenuto Di un morente Di un figlio perduto Di sentire Nella radice Di quel dolore La presenza dell'amore Come meccanismo inclusivo Dicevo l'altro giorno Che la croce Qua È il simbolo In assoluto Dell'ingiustizia umana E della giustizia divina Più sublimi Più assolute Più potenti Le racchiude Se non ci fosse stato Quel dolore Non sarebbe potuto esistere Quella profondità Nell'amore incondizionato Universale Quindi è tutta Un'unica cosa Siamo noi che vediamo Distinzione tra amore e dolore Paradossalmente Quando tu più ami Una persona Più quando la perdi Quel dolore è grande Ma quel dolore è amore È un'espressione dell'amore Siamo noi che non riusciamo A vedere che è tutto amore Perché abbiamo paura Che quel dolore E quell'amore Ci distruggano Ci facciano perdere il controllo E invece abbiamo bisogno Proprio di questo Di perdere il controllo Sapete che cos'è Cosa sono state La disponibilità di ognuno di noi È a perdere il controllo Il controllo nelle lacrime Una lacrima che scende È la perdita del controllo E lasciare uscire Non trattenere Non ritenere E contenere Quell'amore Quella bellezza E quindi l'augurio Che posso fare Ognuno di noi È che questo perdono Ci porti al di là Di noi stessi In un territorio Che non conosciamo In un mistero In uno sconosciuto Nella bellezza Di non sapere più nulla Ma di sentire tutto Di scegliere Di amare ciò che sentiamo Questo è l'augurio Che faccio a ognuno di noi Spero che questi due giorni Abbiano messo dei semi Così umili Così semplici Ma dei semi Che possano germogliare Affinché ognuno di noi Possa portare Il frutto di tutto questo Nel mondo E il frutto È ognuno di noi Grazie Grazie Nico e Candida Tutti i volontari Tutti voi Francesco Tutti i volontari Della comunità Grazie a questo luogo E grazie al Cristo Che ha permesso Tutto questo Grazie Grazie a tutti